C'è nessuno? C'è nessuno qui? Ehi! Se continui ad addormentarti ti buttano fuori. Scusa. Ho avuto un altro incubo ieri notte. Non riesco più a capire cos'è reale. C'è qualcun altro a cui succede lo stesso. In ogni sogno che faccio c'è sempre quell'uomo. È il suo marchio, vero? Freddy! Oh mio Dio, l'hai visto anche tu? Tu... chi sei? Ti ricordi di me? Ah! Sono io, sei tu, è Dean, Jesse, Chris. È nella testa di tutti noi. Dobbiamo fermarlo. Come? Non dobbiamo dormire. Non dormo da tre giorni. Il tempo sta scadendo. Passate le 70 ore, la persona insonne comincia a fare dei micro sonni. Vuol dire che sogni, ma non lo sai. Anche se sei sveglio. Oddio. No. Solo io. Quando lo smetterà? Che cosa vuole da noi? Perché urli? Non ti ho ancora sbozzato. Voglio svegliarmi! Ti do una cosina che ti farà sicuramente dormire. No, no, no! Potrebbe bruciare un tono. No! No, abri gli occhi, resta sveglia.